Teatro 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 Parliamoci chiaro, in questo video non parliamo di teatro in modo tradizionale. No, perché abbiamo voluto rappresentare il teatro non per quello che è in sé, ma per l'esperienza che ci sta dietro. Non vedrete quindi delle recensioni dei singoli teatri, ma vedrete semplicemente ciò che noi abbiamo vissuto andandoci. Sì, vedrete la nostra esperienza, le sensazioni che abbiamo provato prima che iniziassero questi spettacoli e alla fine il vociare delle persone, la luce che si affievolisce e i viaggi e questo c***o che ride perché pure lui, perché pure lui ride. E quindi sono queste piccole cose particolari del mondo del teatro che più ci hanno colpito e che abbiamo rappresentato in questo video. Buona visione! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi piace molto quando gli attori fanno le scene belle e la storia è bella e le persone applaudono. E che cosa provi quando vai a teatro? Felicità! Ciao Franz, che cos'è per te il teatro? È una cosa bella quando gli attori fanno ridere le persone e ridono che a me mi piace così tanto così. Mi piace! Ecco, ho finito.